Mi aspetto una partita sicuramente combattuta, noi siamo un po' indietro in classifica, sicuramente a questo punto del campionato ci aspettavamo di essere un po' più avanti, con qualche punto in più purtroppo le assenze si sono fatte sentire, ma ripartiamo da questa partita e andiamo a prenderci tre punti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.